A dicembre 2023 l'indice nazionale dei prezzi al consumo segna l'ordo dei tabacchi aumenti dello 0,2% sul mese e dello 0,6% su base annua. Confermando la stima preliminare lo comunica l'ISTAT. I prezzi al consumo registrano nel 2023 più 5,7% al netto degli energetici e degli alimentari. I prezzi al consumo segnano più 5,1% al netto dei suoi energetici più 5,3%. Rallentamento tendenziale dovuto per lo più a energetici regolamentati. Rallentamento tendenziale dovuto per lo più a energetici regolamentati.